A soli sei giorni dall'anniversario del sisma del 2009, torna a tremare la terra nella notte e l'Aquila ripiomba nella paura. Alle 3.18 con una magnitudine di 3.8 il capoluogo si è risvegliato nel terrore. La gente è scesa in strada, sebbene la scossa non abbia comportato alcun danno. E poi alle 3.30 una replica di 2.0, quasi impercettibile, ma che ha convinto molti a dormire in auto sotto una pioggia battente. La notte della passione di Cristo si è così trasformata nella passione degli Aquilani, un destino di ansia e paura a cui nessuno si abituerà mai.